In questo nuovo capitolo facciamo un salto in oriente, nella penisola arabica del VI-VII secolo, per andare a vedere cosa succede. Vediamo qual è la situazione della penisola arabica in questo periodo. Nel centro nord troviamo il grande deserto sabbioso, mentre nella parte sud e lungo le coste troviamo una zona più fertile dove nascono diverse grandi città, sulle rotte commerciali che arrivano dall'Oriente. La popolazione dell'Arabia Saudita è fatta da stanziali, cioè coloro che risiedono nelle case, nelle città, che si occupano di commercio, agricoltura e allevamento. Invece un'altra parte di questa popolazione è composta da tribù nomadi chiamati beduini, ossia abitanti del deserto. Di cosa si occupano questi beduini? Vivono nelle oasi, che sono delle sorgenti d'acqua che spuntano in mezzo al deserto e che permettono una certa vegetazione e si occupano dell'allevamento di capre, pecore e dromedari, di razzie, cioè rapinare le carovane commerciali o di fare la scorta alle stesse carovane perché altre tribù non le razzino. Quindi, per ricapitolare, i beduini vivono nelle oasi del deserto arabico coltivando datteri, allivando capre e dromedari. Sono popolazioni nomadi e seminomadi di origine semitica, cioè provengono dal Medio Oriente. Saccheggiano le carovane commerciali che dall'Oriente in direzione Cina arrivano verso l'Occidente portando merce preziosi, passando quindi per l'Arabia, oppure fanno loro da scorta. L'allevamento dei dromedari è molto importante perché il dromedario è soprannominato anche la nave del deserto, un animale molto resistente al caldo, alla fame e alla sete, che sarà importantissimo per l'espansione, lo vedremo, dell'impero arabo. Cosa succede in questo periodo in Arabia? In questo periodo in Arabia le religioni più diffuse sono le religioni politeistiche collegate a culti e idoli pagani, come ad esempio la Pietra Nera custodita in un edificio pubico alla Mecca, la capitale dell'Arabia Saudita, chiamato Kaaba, che era meta di pellegrinaggio. I pellegrini, quando si recavano la Mecca per adorare la Pietra Nera, davano grande impulso e grande vitalità ai commerci di questa città. Molto diffuso anche l'ebraismo, una religione che ha origine in Palestina e che è stata rivelata dai profeti che saranno anche presenti nella nuova religione, come Abramo, che sarà chiamato Ibrahim nella religione musulmana. Il cristianesimo, allo stesso tempo, era diffuso anche nell'Arabia. La predicazione cristiana si era rivolta dalla Palestina verso sud e Gesù Cristo figura come uno dei profeti dell'Islam. Nel 570 nasce alla Mecca da una famiglia di mercanti, Mahometto. Mahometto rimane orfano molto giovane e quindi viene cresciuto dallo zio, un abile commerciante. A 25 anni Mahometto sposa Khadija, figlia di un ricco mercante e quindi eredita e scorta le carovane commerciali della ricca moglie. Nei suoi viaggi Mahometto ha modo di venire a contatto con le diverse religioni orientali, tra cui l'ebraismo e il cristianesimo. E dopo essere venuto a contatto con queste grandi religioni, solitamente, essendo un uomo molto spirituale, va a meditare sul Monte Ira, nel deserto arabico. Sul Monte Ira pare gli sia apparso l'Arcangelo Gabriele, che in arabo si dice Jibril, che gli dà le prime rivelazioni di Allah. Allah è il Sommo, il Dio Supremo. E quindi Mahometto diventa subito il suo profeta. Vedete in questa immagine, come vedremo anche nelle altre, Mahometto appare con il volto velato, perché per la religione islamica è proibito mostrare il volto del profeta. Dopo che fu incaricato di diffondere la parola di Dio dall'Arcangelo Gabriele, Mahometto diventa il profeta di una nuova religione chiamata Islam. Dove va Mahometto a predicare questa nuova religione? Ovviamente nella città più affollata, e cioè alla Mecca. Ma diciamo che i commercianti della Mecca non la prendono benissimo, perché la maggior parte dei commercianti che si decavano alla Mecca andavano lì per adorare la Pietra Nera, e quindi scacciano Mahometto dalla città con tutte le sue nuove idee religiose. Nel 622, infatti, Mahometto fugge dalla Mecca e si rifugia in un'oasi del nord del paese che da allora prende il nome di Medina, ossia la città, la città per antonomasia. Questa data è molto importante perché segna l'inizio del calendario islamico, viene chiamata, infatti, Egira, ossia migrazione. Sarebbe l'anno zero dei musulmani. Mahometto capisce che i Beduini possono tornarli utili perché posseggono e sanno usare le armi e sono abilissimi cavalieri del deserto, per cui comincia a convertirli alla nuova religione e organizza un grande esercito per riconquistare la Mecca. Infatti, nel 630, rientra da vincitore alla Mecca e la dichiara città santa dell'Islam. Come vedete anche in queste rappresentazioni, il profeta appare con il volto velato. Nel 632, Mahometto muore a Medina, ma lascia gli arabi come un unico popolo, convertito a un'unica religione che occupa tutta la perisola arabica. Gli arabi, tuttavia, si dimostrano molto tolleranti nei confronti delle altre regioni. Infatti, sia cristiani che gli ebrei continuano a professare le loro religioni in Arabia, ma devono solamente pagare un tributo all'Islam per vivere in pace. Vediamo un po' di che si tratta questa nuova religione. Vediamo cosa vuol dire innanzitutto musulmani. Musulmani viene dall'arabo muslim, che vuol dire fedeli, cioè i fedeli della nuova religione, che vuol dire sottomessi, cioè sottomessi ad Allah, ovviamente. Anche nella nuova religione dell'Islam ci sono dei testi sacri. Il testo delle preghiere si chiama Corano, che viene dall'arabo al-Quran, che vuol dire recitazione. È il libro che racconta gli insegnamenti del profeta, ed è stato scritto ovviamente dai successori di Maometto. Ma questo libro non era molto comprensibile alla maggior parte degli arabi, era un libro di religione molto profondo. Quindi venne scritto un altro testo sacro, chiamato Sunna, che non è altro che il racconto degli episodi della vita di Maometto come esempio di virtù, ed era molto più comprensibile a tutta la gente d'Arabia. Quali sono i pilastri dell'Islam, della religione musulmana? Sono cinque pilastri fondamentali, cioè le cose che un buon musulmano deve compiere nella sua vita. La professione di fede, e cioè riconoscere Allah come unico Dio e Maometto come suo profeta, il famoso grido Allahu Akbar che richiama i musulmani alla preghiera dai minareti delle moschee. Il secondo è la preghiera che va recitata dopo un rito di purificazione cinque volte al giorno, all'alba, a mezzogiorno, a metà pomeriggio, al tramonto, la sera, rivolti verso la Mecca. Il terzo precetto è l'elemosina, cioè chi ha di più è obbligato come tassa di solidarietà a dare qualcosa ai più poveri. Infatti se visitate dei paesi islamici, all'uscita della recitazione della preghiera dalla moschea c'è una fila di gente povera che raccoglie l'elemosina. Il quarto pilastro è il Ramadan, ossia il digiuno di un mese, il nono del calendario arabo che ricorda la permanenza di Maometto sul Monte Ira, in cui chi è sano, chi non ha malattie, e chi non prende medicine non deve mangiare né bere dall'alba al tramonto. Il quinto precetto, l'ultimo precetto, è il pellegrinaggio alla Mecca. Tutti i musulmani devono compiere una volta nella vita il pellegrinaggio alla Mecca, intorno alla pietra nera, che nel frattempo è diventato un simbolo sacro anche per i musulmani. Infatti la leggenda dice che l'arcangelo Gabriele abbia scagliato la pietra nera sulla terra, che inizialmente era bianca, ed essa si è diventata nera perché ha assorbito tutti i peccati degli uomini. Quindi andando alla Mecca ci si purifica da tutti i peccati. Dopo essersi compattati in un'unica grande religione, gli arabi fondano un grande impero, il più grande impero dell'epoca. Si rivolgono verso est conquistando le terre della Mesopotamia, verso nord conquistando il Medio Oriente, strappandolo all'impero romano d'Oriente, strappano i vandali il Nord Africa e i Visigoti il sud della Spagna. Quindi Iran, Iraq e Afghanistan, Siria, Palestina ed Egitto e il Nord Africa strappati al regno bizantino, mentre i primi erano stati strappati dall'impero persiano. La Spagna viene strappata ai Visigoti fino al 732, quando il re dei Franchi, Carlo Martello, blocca l'avanzata araba. Quali sono i motivi del successo? Innanzitutto la capacità di manovra. Un popolo tradizionalmente nomade poteva sopportare lunghe marce anche nel deserto. Poi la coesione, combattevano per la fede e alla loro morte sarebbero stati assunti in paradiso da Allah. Lo scontro di anni e anni tra i bizantini e i persiani aveva indebolito questi due grandi imperi e per questo gli arabi ebbero la meglio. Infine, gli arabi si rivelarono sempre molto tolleranti con le popolazioni occupate, che dovevano solamente pagare un tributo per poter continuare a vivere liberamente. Ma l'impero arabo non ha portato solo alla guerra in giro per il mondo, ma anche una grande cultura. Nella letteratura, il romanzo dell'Emilia una notte è un grande capolavoro della letteratura araba, racconta le vicissitudini della principessa Shahrazad che ogni notte per mille una notte racconta una fiaba al crudele re Shashirian, perché gli sia risfermiata la vita. Nell'arte si sviluppa la decorazione cosiddetta ad arabeschi, infatti gli arabi non potendo rappresentare il profeta, le scene della vita del profeta, usavano uno stile molto decorativo che ispira l'architettura di tutta Europa. Nell'economia, grazie all'introduzione dell'algebra e dei numeri arabi molto più pratici per compiere addizioni e sottrazioni, l'introduzione dei numeri arabi consente un grande sviluppo dell'economia. Viene introdotto inoltre il significato dello zero, che prima non esisteva in matematica. Vengono introdotte nuove colturi come le agrumi e nuove tecniche di irrigazione e coltivazione intensiva. Pensate che gli arabi erano abituati a coltivare in zone desertiche, quindi ne sapevano molto di quest'arte. E qui potete vedere il romanzo dalle miglia una notte, i giardini arabi pieni di agrumi, i numeri arabi, quelli che usiamo ancora adesso, è un esempio di arabeschi. Potrete vedere che il vostro libro si perde molto nelle lotte dinastiche e nelle successioni a Maometto, oppure in questioni dottrinali e politiche del Medio Oriente. A noi interessa solo sapere che è nato un altro grande impero a sud del Mediterraneo che presto rivaleggerà con l'impero romano d'Oriente e il sacro romano impero che sta nascendo nell'Europa occidentale. Arrivederci.